Gullino Import-Export SRL Svolge la sua attività nel settore delle esportazioni di frutta fresca L'azienda è stata fondata nel 1969 ad opera dell'attuale presidente Attilio Gullino affiancato negli ultimi anni dal figlio Giovanni e dal 2009 dalla figlia Carola in qualità di amministratori delegati Nel corso dei 40 anni di attività l'azienda è riuscita ad aumentare costantemente i volumi di vendita diventando una delle prime aziende italiane nell'esportazione di kiwi a cui si aggiungono altri prodotti quali pesche, nettarine, prugne e mele Ha il 90% del prodotto immagazzinato con certificati EUREPGAP e ha inoltre risposto positivamente alla nascita del mercato biologico certificandosi e seguendo attentamente le procedure legate alla tracciabilità del prodotto da agricoltura biologica 350.000 quintali di capacità frigo permettono di conservare il kiwi per l'arco dell'intera stagione di vendita che va da ottobre a giugno In seguito ad una attenta valutazione delle caratteristiche organolettiche di ogni partita e in base alla provenienza si ottimizza la qualità della frutta confezionando il prodotto nel momento ottimale grazie anche al contributo scientifico dell'Università di Torino con la quale è in corso dal 2006 una ricerca sulle qualità sensoriali del kiwi italiano è inoltre attivo un laboratorio interno Oltre alla produzione gullino che rappresenta il 40% delle spedizioni l'approvvigionamento avviene nelle zone più vocate d'Italia Il quantitativo si aggira intorno ai 300.000 quintali suddivisi in 60% nel Lazio 20% Piemonte 20% zona del Garda Nel periodo estivo l'azienda confezione spedisce circa 150.000 quintali tra pesche, nettarine, prugne e coprendo il periodo che va da luglio a ottobre La produzione ha inizio alla fine di giugno con nettarine a pasta bianca, nettarine a pasta gialla e pesche a pasta gialla L'azienda opera su tutti i principali mercati a livello mondiale Quasi l'80% della merce viene venduta all'estero e il costante aumento del volume di vendite ha spinto ad intraprendere una strategia commerciale sempre più attenta alla ricerca di nuovi mercati Sotto quest'ottica si è raggiunto un importante risultato commerciale stringendo accordi con supermercati inglesi e spagnoli Da molto tempo si rivolge l'attenzione all'esportazione oltremare che è in costante aumento Ai mercati dove l'azienda è presente da diversi anni come gli Stati Uniti d'America, Canada, paesi arabi si sono aggiunti nuovi mercati quale India, Singapore, Brasile, Australia, Vietnam, Messico e Colombia grazie all'esportazione di kiwi e prugne Negli ultimi anni sono stati raggiunti accordi con paesi dell'est Europa come la Russia che rappresenta un mercato ad alto potenziale che hanno portato all'azienda importanti risultati economici Di pari passo si è continuato a ricercare clienti sia in Italia che nei paesi dell'Unione Europea L'azienda Gullino Import-Export è certificata secondo BRC Global Food Standard Issue 4 UCAS IFS International Food Standard Standard for Auditing Food Suppliers Version 4 January 2004 Nel corso del 2010 ha ottenuto la certificazione secondo la norma UNIEN ISO 22005 Versione 2008 l'azienda Gullino Import-Export è un'altro